Ha detto che il tema del concorso per l'Agenzia è un tema importante, soprattutto nel momento in cui noi andiamo a stanziare più risorse per la cooperazione. Più risorse devono essere spese da persone competenti e in grado di farlo, e devono essere spese da un'Agenzia in grado di funzionare nella sua complessività. Concludo questa mia relazione ribadendo che è stato difficile contemperare la rilevanza di questo provvedimento con le improvvise strettoie parlamentari che hanno penalizzato fortemente questa Camera. Non ha giovato al nostro lavoro la ritardata presentazione del provvedimento da parte del Governo, né i tempi di lavoro che si è preso il Senato. Non è una circostanza inedita, ci auguriamo però che a partire dal 2017, con l'entrata in vigore del nuovo percorso di deliberazione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, si possa effettivamente ovviare a questo tipo di problemi. Grazie. Grazie, collega. Adesso il collega Causin. Prego. Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario alla Difesa e onorevoli colleghi deputati. Come è già stato anticipato dal relatore della Terza Commissione, onorevole Quartapelle, con ogni probabilità l'Aula affronta oggi l'esame dell'ultimo decreto legge di rifinanziamento delle missioni internazionali. Si supera la provvisorietà, alle quali l'Italia partecipa con le proprie forze armate di Polizia. Grazie a uno straordinario lavoro di approfondimento e di affinamento giuridico, dopo quasi quattro legislature, il Parlamento si appresta, in questi giorni, a portare a termine l'esame della nota legge quadro sulle missioni internazionali. Sullo scenario delle crisi internazionali e sulle iniziative di cooperazione dello sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento, dei processi di pace e di stabilizzazione, ha già detto tutto esaurientemente la collega della Terza Commissione, onorevole Quartapelle. Mi soffermerò, pertanto, sulle disposizioni che interessano più da vicino le competenze della Commissione difesa, che sono contenute nel capoprimo del decreto, dagli articoli 1 all'articolo 7. In particolare, l'articolo 1, 2 e 3 reccano le autorizzazioni di spesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia, raggruppate sulla base di criteri geografici, come è tradizione. Rispetto al precedente provvedimento di proroga, decreto legge 174 del 2015, che aveva disposto per il periodo del 1 ottobre al 31 dicembre 2015, e quindi solo per tre mesi il decreto legge in esame, prevede invece rinnovo per l'intero anno 2016. Se dunque la legge quadro che l'Assemblea discuterà nei prossimi giorni sarà finalmente approvata dalle Camere entro la fine dell'anno, per la prima volta il nostro Paese si doterà di un quadro normativo complessivo, organico e permanente, per la disciplina di diversi e complessi profili che regolano l'invio dei nostri militari fuori dai confini nazionali. E questo sarà dunque l'ultimo decreto legge di proroga delle missioni. Fatta questa premessa, rilevo in primo luogo che l'onere complessivo per il rifinanziamento delle missioni, comprensivo degli interventi per il sostegno ai processi di pace e per la cooperazione e lo sviluppo, ed esclusa le spese relative agli interventi di sicurezza interna di quell'articolo 4,11, che prevedono una copertura autonoma, ammontava nel testo iniziale del Governo circa 1 miliardo e 272 milioni di euro, sostanzialmente quindi in linea con le spese relative all'anno precedente. Tale onere è ora aumentato a circa 1 miliardo e 291 milioni di euro, per l'effetto degli emendamenti approvati durante la lettura del decreto al Senato. Come già accennato, i primi tre articoli del provvedimento sono relativi alla proroga delle missioni attualmente in corso, che vedono le nostre forze armate impegnate rispettivamente in Europa, in Asia ed in Africa. In Europa, come è ben spiegato nell'articolo 1, l'Italia continua ad avere missioni importanti e ad essere impegnata soprattutto nei Balcani, con particolare riferimento al Kosovo, dove sono attive le missioni NATO Joint Enterprise e la missione di carabinieri MSU, e la missione civile dell'Unione Europea EULEX-Kosovo, per una spesa complessiva di circa 78 milioni di euro, con un decremento di poco più di 6 milioni di euro rispetto alla somma stanziata nel 2015. Sempre in Kosovo, continuano ad essere attive le missioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite che coinvolgono il personale della Polizia di Stato. Rispetto all'anno precedente, invece, la partecipazione di due magistrati collocati fuori alla missione dell'Unione Europea EULEX-Kosovo. Particolare rilevanza rivestono poi i programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica, dove viene autorizzata una spesa di quasi 6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stanziamento del 2015. Diminuisce di circa 4,1 milioni di euro lo stanziamento per la missione NATO Active and the World nel Mediterraneo orientale, adesso di poco superiore a 19 milioni di euro. Mentre aumenta di circa 10,3 milioni di euro quello per la missione militare dell'Unione Europea EULEX-Kosovo, che si attesta, dopo la modifica introdotta al Senato, a circa 70,3 milioni di euro. Un ammendamento dei relatori approvato all'Aula del Senato ha, infatti, aumentato ai 506 mila euro l'autorizzazione di spesa per tale missione, al fine di fornire al Governo libico un'attività di addestramento della Guardia Costiera. Minori, ma pur importanti contributi, si registrano per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato in Bosnia, nonché per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro. L'articolo 2 proroga la partecipazione delle missioni in Asia, tra le quali si rileva in primo luogo l'intervento in Afghanistan, che vede un leggero decremento di risorse rispetto all'anno scorso, circa 179 milioni di euro rispetto ai 185 del 2015. Rilevano oltre sì gli interventi in Libano, con circa 155,6 milioni di euro, anch'essi in diminuzione rispetto allo scorso anno, e soprattutto per il contrasto dell'attività terroristica del Daesh, che registra un significativo incremento di risorse, circa 236 milioni di euro rispetto ai quasi 200 del 2015, e che comprende, a decorre del 1 aprile 2016, sia un dispositivo di recupero del personale di 137 unità, sia un team di circa 100 militari, incaricato questo delle attività propedeutiche alla Force Prospection nell'area di Mosul, che accompagnerà i lavori di consolidamento della diga. Tale stanziamento è stato ulteriormente incrementato di circa 17,5 milioni di euro per l'invio di 400 uomini alla protezione della diga di Mosul. Sempre il Senato ha approvato un emendamento che precisa che le somme stanziate per il contrasto al Daesh dovranno essere utilizzate anche per fornire aiuti umanitari alla popolazione civile. Ulteriori interventi disposti all'articolo 2 si riferiscono all'impegno di personale militare per il supporto delle missioni in Asia e in Medio Oriente, all'impiego di personale militare volontario della Croce di Ossia Italiana e alla proroga della partecipazione di personale militare per le missioni in Palestina e a Derat. Ulteriori interventi disposti all'articolo 2, e sempre in Palestina, continuano la partecipazione di personale della Polizia di Stato e di due magistrati collocati fuori ruolo in due missioni, Europol-Cops, di assistenza alla Polizia Civile palestinese. L'articolo 3 riguarda le missioni in Africa, tra cui spica la missione anti-pirateria Atlanta dell'Unione Europea, a largo delle coste della Somalia, e che registra una sensibile diminuzione sia negli stanziamenti, scesi da 43 milioni e circa 27.9 milioni di euro, sia nelle unità di personale impiegato, passate da una media di 497 unità attuali a quelle di 164. Peraltro, al Senato è stato approvato un emendamento che proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi italiane, che navigano in acqua e a rischio di pirateria, nelle more dell'attuazione e della disciplina relativa alla frequentazione, da parte del predetto personale nei corsi teorico-pratici appositamente previsti dalla normativa vigente. Prosegue inoltre l'impiego delle missioni dell'Unione Europea in Somalia, nel corno d'Africa, nonché il funzionamento della base militare a Djibouti, la cui spesa complessiva è di 25.5 milioni di euro ed è anch'essa in diminuzione rispetto al 2015. E prosegue ancora l'impegno per le missioni delle Nazioni Unite in Mali e dell'Unione Europea in Sahel e Niger, per le quali è autorizzata una spesa di circa 3.3 milioni di euro. Costituisce invece un elemento di novità l'impiego decorre dal 20 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016 di un ufficiale di carabinieri in qualità di consigliere presso l'Uganda Police Force, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'arma e la polizia ugandese nei settori della formazione e della logistica. L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative alle ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali. Si tratta in particolare delle disposizioni in materia di assicurazione e trasporto, di supporto al dispositivo informativo dell'Aise e a protezione del personale impiegato nelle missioni e di cessione di materiale militare fuori servizio a vari Paesi. Con riguardo a quest'ultimo coma, segnalo tre importanti novità introdotte al Senato. In primo luogo è stata bloccata la cessione alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per i veivoli F-16. In secondo luogo sono stati stanziati ulteriori 117 mila euro per l'accessione della Repubblica dell'Iraq di materiale d'armamento leggero destinato ai peshmerga kurdi impegnati nella lotta all'ISIS. Infine è stata prorogata per il 2016 l'accessione a titolo gratuito di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio all'Eritrea. L'articolo 4 reca nuove disposizioni che definiscono il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi dell'Assemblea Atlantica in vari teatri operativi. In particolare viene autorizzata a 15 maggio 2016 e al 31 dicembre 2016 la spesa di 7 milioni e 200 mila euro per la partecipazione all'operazione NATO denominava Active Fence. Si tratta nello specifico di un'operazione autorizzata dal Consiglio Atlantico il 4 dicembre 2012 che prevede lo schieramento di batterie antimissili a difesa dello spazio aereo turco, dove l'Italia parteciperà con un contingente di 130 uomini ed una batteria dell'esercito. Viene inoltre autorizzata dal 10 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 la spesa di 950 mila euro l'attiva alla messa a disposizione di un velivolo per il rifornimento in volo dell'aeronautica militare per contribuire al potenziamento del dispositivo NATO in sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza Atlantica. Da ultimo, l'autorizzazione per contribuire al potenziamento del dispositivo NATO in sorveglianza navale nell'area dell'Alleanza attraverso l'impiego di unità cacciamine, inizialmente prevista dal Decreto Legge fino al 30 giugno 2016, è stata dal Senato prorogata fino al 31 dicembre 2016. Inoltre, sempre al Senato, è stata introdotta un'ulteriore disposizione al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione di sicurezza e demunizionamento degli esplosivi che impegna le Forze Armate ad applicare le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa. Segnalo poi che l'articolo 4,7 autorizza la spesa di 90,2 milioni di euro per la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata ai due precedenti decretti missioni. L'aumento di quasi 25,3 milioni di euro rispetto al 2015 è stato determinato, come precisato in relazione illustrativa, dal grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia, che ha reso necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia terroristica. L'infettimento delle attività di pattugliamento condotte dell'area del Mediterraneo, interessata dalle principali rotte di comunicazione, prosegue la relazione e determinerà una maggiore protezione a mare, segnatamente in riferimento al rischio di aumento di traffici illeciti condotti in mare. Un ulteriore elemento di novità è costituito dalle disposizioni sull'utilizzo del personale delle Forze Armate per esigenze di sicurezza interna. In particolare, la citata disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di 1.500 uomini delle Forze Armate per l'esigenza di sicurezza connesse con il giubileo e per la tutela di alcune specifiche aree del territorio, già autorizzato fino al 30 giugno 2016 dall'articolo 7,1 del Decreto-Legge 185 del 2015. Viene inoltre incrementato di 750 unità dal maggio al 31 dicembre 2016 il contingente impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Infine, con riferimento alle disposizioni in materia di personale e a quelle in materie penali e contabili, rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7, ricordo che il Decreto-Legge in esame reca una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente, eccezione di due interventi di carattere innovativo. Per quanto attiene alle disposizioni penali, vengono infatti introdotte alcune modificazioni dell'articolo 10 del Codice di procedura penale sui reatti commessi all'estero, mentre in ordine alle disposizioni in materia contabile viene introdotto all'interno del Codice dell'ordinamento militare di cui ha il Decreto-Legge 66 del 2010 un nuovo articolo, volto a garantire che i servizi di assicurazione e trasporto in favore dei contingenti possano essere erogati a partire dal 1 gennaio di ciascun anno senza soluzione di continuità. Infine, rilevo che rispetto al provvedimento emanato dal Governo, l'esame al Senato ha introdotto una proroga di sei mesi del termine previsto dalla legge Madia per l'emanazione dei decreti legislativi e per la modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle agenzie governative nazionali e agli enti pubblici non economici nazionali anche al fine di allineare la scadenza delle deleghe relative al riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate. Grazie. Grazie. Collega relatore di minoranza Gianluca Pini. Facoltà di intervenire, allora il relatore di minoranza, deputato Luca Frusone. Grazie Presidente. Siamo di fronte all'ennesimo decreto di legge, speriamo ultimo, sul rifinanziamento delle missioni internazionali. Una novità di questo decreto è comunque l'inserimento di una proroga del termine per l'esercizio di una delega legislativa, la cosiddetta legge Madia. Questa cosa è piuttosto nuova e non riguarda i vecchi decreti e ci chiediamo anche se ci sia un...